E' il primo gol del campionato ed è stato Andrea Mariano che al ventitresimo ha realizzato errore della difesa del Dertona, Mariano sul lancio di Ceccaroni solo ha controllato E' questo il primo gol del campionato di Mariano, il primo gol in assoluto nella prima partita in casa 2 a 1, vincemmo col Dertona, fu il primo gol di Mariano, adesso vediamo il secondo gol, se non ricordo male è un calcio di rigore, ecco Mariano che si avvia, entra dentro l'area e viene, ed è il calcio di rigore per fallo su Mariano, arbitro Arcangeli di Terni, guarda il suo collaboratore sotto la tribuna e poi concede la massima punizione di rigore affidato allo Spezia, Mariano è caduto in area di rigore, l'arbitro ha controllato il guardaline e ha dato il calcio di rigore, allora il fallo c'era, si trattava di stabilire esecuzione affidata a Ceccaroni mi lascerò all'urlo del pubblico, probabilmente esatto, rete 2 a 0